Gliepa ragazzi, bentornati su GiocaHT Spor, io sono Gio Spor, ormai mi conoscete tutti e oggi domenica e come ogni domenica, sapete cosa c'è? Il Q&A Sunday, quindi, sigla! Iniziamo con la prima, la number one, la prima domanda, Roby the Gamer Q&A Uno, ti senti ancora con Tommaso, FIFA e Carlo Totti in Italia? Due, perché non fai più video su Ultimate Team FIFA Italia? Allora, ci sentiamo ancora? Sì, ci sentiamo ancora, siamo ancora in contatto, giochiamo anche insieme a Minecraft, quindi ci sentiamo ancora. Perché non fai più video? Perché non ero adatto per fare video sul loro canale, perché sono anche adatto per Pink Sleeps, Park Hopring, come ben sapete io. Sono uno che, quando c'è da incansarsi, incazza, eh? Soprattutto in questo gioco. Poi, prossima domanda, justlcpt, questo commento deve apparire al minuto 2.36, grazie e tanti auguri, tanti auguri anche a te e a tutti voi, naturalmente. Non credo che appariranno in quel minuto, purtroppo. Vlogka Channel Perché hai quasi la metà dei dislike a video? Sei bravo e divertente, per non dire speciale. Beh, vabbè, la metà non credo. Però ci sono, naturalmente, persone che mettono dislike, perché, come ho detto, in uno degli scorsi Q&A, sono haters, haters, e quindi lo mettono a prescindere. E poi, comunque, ci sono anche le altre persone che lo mettono, perché vedo che il video non è ben fatto, quindi hanno anche ragione. Alcuni hanno ragione, altri sono proprio coglioni, e no. Francesco Consi Dai, porta un video su Clash sul primo canale. Vlaka Channel No Alzo le mani Killers Grande Giovi Fiero di essere un tuo iscritto Grande Killers Fiero che tu sia un mio iscritto Tommaso Percuoco Q&A Perché non ti chiami Giovi H. Dio? Umbi Btk Q&A Perché fai i video in bagno? Ti fai di MD? No, non è un bagno, azzì. Scusa ci siamo, ma ci vediamo una cosa. Vedete? Allora, dai cazzo, allora. Questa è una stanza Eh, sì. Vabbè, lasciate perdere quelle briochine. Quella è il papo, vabbè. Telefono Là c'è anche Una finestra Questa è la televisione Questo è il computer Sto registrando un bel casotto Mi hanno preparato anche la calza La mia ragazza Eeeh Che altro? Qua sto registrando La luce Eeeh E basta A me non sembra un bagno A voi sembra un bagno? Poi vorrei sapere Cosa sono queste MD L'MD è il supermercato Forse Alessio Porreica Vabbè, questo È un amico di mio futuro Spero Cognato Di mio cognato Quando torni a casa di Italia A giocare a carte E ci sono venuto un altro gioco Simone Milana Ma se due rocce si riproducono Fanno sasso? Grazie di avermi messo nel video Prego Ti ho rimesso Beh, questa battuta Mi ha fatto sorridere Non ridere anche davvero sorridere È un po' divertente Da Secondo me è divertente questa battuta Di In Fantastici 2 Più in dei Secondo me In Road to Division 1 Su FIFA 15 È meglio farlo in live Visto che hai poco tempo Invece di fare Quattro partite Fai tre partite Però in live Comunque sei in grande E continua così La caccia ne rispoglie Meglio in live Allora Road to Division 1 Quattro o tre partite Il problema Perché non faccio in live Road to Division 1 Perché io tendo Molto ad incazzarmi E anche ad urlare Sì, so che è una cosa brutta Però Purtroppo succede Ognuno si sfoga a suo modo Farlo in live Mi porterebbe via un po' Più di tempo Però forse ho trovato una soluzione Ma più che altro E farlo in live Potrebbe essere qualcosa Come posso dire Comunque io qui Sono in casa Comunque C'è qualcun altro In questa casa Quindi Si può insospettire Mi dice Ma che cazzo stai facendo Perché stai gridando Questo è il problema Principale Comunque Non lo so Comunque Se avete visto Questa settimana Non è neanche uscito L'Otto Division 1 Perché comunque Sono state le peste Eppure io Mi sembra se c'è una Una feria Tra virgolette E quindi Non è uscito Comunque la prossima settimana Uscirà Il L'Otto Division 1 Dove uscirà anche Il bar hotel di Raven Ma no Non lo so Se farlo continuare Dunque ragazzi Quindi Finisce qui Vi ho fatto anche vedere Un mini tour Della mia casa Quindi Della mia casa Della mia camera Quindi un mini tour Dunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Un pollice All'inzu O anche due Due pollici All'inzu Commentate con una domanda Io domenica prossima Vi risponderò E dunque ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Ciao E alla prossima E buona